Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho perduto a tutti i compagni, tutti i giovani sui lettanti. La sua vita non torna più. Il progetto di valorizzazione del Monte Cum nasce con il sostegno regionale dall'iniziativa dei comuni di Stregna, Capofina, Grimacco e Drenchia, volta a valorizzare appunto questo sentiero della Grande Guerra, importante retrovia del fronte dell'Isonzo. Il progetto si presta a sviluppare l'iniziativa turistica del nostro territorio e a valorizzare tutta l'area delle valli del Natisone. Benvenuti a Tribili di Sopra o a Rentarbi in Comune di Stregna. Il comune di Stregna si trova fra quelle valli del Natisone e dell'Oiudrio che solcano gli estremi lembi del Friuli orientale e custodiscono il confine tra Italia e Slovenia. Qui, presso la frazione di Tribili Superiore, si eleva il massiccio del Monte Cum. Cent'anni fa questa cima veniva pesantemente coinvolta nelle vicende della Grande Guerra, quale importante caposaldo retrato della seconda armata italiana e come teatro di combattimento nella battaglia di Caporetto. Alla vigilia della Grande Guerra, il Monte Cum e il territorio circostante erano aree che si affacciavano alla frontiera corrente fra il Regno d'Italia e l'impero austro-ungarico. Con il 24 maggio 1915 l'apertura delle ostilità sul fronte italiano, le forze della seconda armata italiana e in particolare la Brigatta Bergamo e il Battaglione Alpini a Osta furono le prime a marciare oltre la valle dell'Oiudrio, scendendo proprio dai contrafforti del Monte Cum e della Cresta che scende verso Castelmonte. Furono operazioni sostanzialmente incruente che portarono le forze italiane inquadrate nella seconda armata fino all'Isonzo in poco più di 24 ore. Dalla fine del maggio 1915 alla battaglia di Caporetto fino a ottobre 1917, l'area circostante al Monte Cum fu quindi area di retrovia vicina dello schieramento della seconda armata italiana. Fu in questo periodo che l'esercito italiano costruì una notevole quantità di strade, mulattiere, trinceramenti, postazioni per artiglierie proprio nel circondario del Monte Cum il quale massiccio rappresentava il pilastro angolare del raddoppio della linea d'armata, ovvero la quarta e ultima linea difensiva che le forze italiane avevano approntato nel settore delle prealpi giudia. Durante l'offensiva austro-tedesca conosciuta come battaglia di Caporetto, il Monte Cum fu teatro di una delle diverse battaglie dimenticate che ne caratterizzarono gli eventi. In particolare, fra il 25 e il 26 ottobre 1917, due reggimenti tedeschi della quinta divisione attaccarono le forze della Brigata Elba, che erano arroccate a difesa dei suoi versanti. L'esito del combattimento fu favorevole ai tedeschi, che riuscirono anche a catturare il generale Spiller, comandante della Brigata Elba. Tuttavia, la resistenza italiana fu importante per permettere ai resti della seconda armata di raggiungere la linea difensiva in corso di sistemazione nella zona di Cividale e ancora più indietro lungo il bacino del Torre. Le caverne situate sulla Rotabile, all'inizio della salita per il Monte Cum, fanno parte della vestigia di una postazione per quattro pezzi di medio calibro costruiti dall'artiglieria della seconda armata italiana a partire dal 1916. In concreto, ognuna di queste caverne doveva ospitare una bocca da fuoco rivolta verso oriente. Ad oggi, gli sbocchi sul versante orientale della dorsale sono franati, tuttavia si riconosce molto bene la funzione di cannoniera che ognuna di queste opere aveva. Il versante sud orientale del Monte Cum è fra quelli più coinvolti dai trinceramenti costruiti a partire dal 1916 dalla seconda armata italiana. Ivi, lungo il sentiero, possiamo apprezzare un circuito trincerato dove emergono in maniera assai evidente gli scavi in roccia delle trincee collegati con una caverna che trapassava la dorsale in maniera tale da permettere l'afflusso dei soldati in maniera coperta dalla mulattiera che saliva il monte sul versante occidentale fino alle fortificazioni campali. Le numerose batterie d'artiglieria che l'esercito italiano aveva postato sul Monte Cum trovavano il proprio osservatorio principale sulla cima del medesimo monte, dove ancora oggi riconosciamo diverse vestigia. In questo luogo, nell'agosto 1917, ci salì anche il re d'Italia, Vittorio Emanuele III di Savoia, per osservare il terrificante bombardamento preliminare che la seconda armata stava facendo sul fronte austro-ungarico della Bainsizza. Nel cannoneggiamento di preparazione dell'undicesima battaglia di Lisonzo, la battaglia della Bainsizza per l'appunto, parteciparono anche le artiglierie schierate sul Monte Cum, fra le quali si trovava anche un pezzo di grossissimo calibro inglese che venne ceduto all'esercito italiano dalle forze di Sua Maestà. Lungo la mulattiera di origine prebellica che soluca il versante nord-occidentale del Monte Cum, l'esercito italiano organizzò un'importante base logistica per gli artiglieri e anche ingegneri che erano impegnati nel settore. In particolare si tratta di casermaggi e depositi capaci di contenere e di dare i servizi di magazzini necessari alla sopravvivenza di centinaia di soldati. E' questo l'ultimo punto notevole dell'anello storico del Monte Cum che ora si avvia verso Tribil e in circa mezz'ora di camminata ci riporta con tutta facilità al punto di partenza. Sono Antonio De Toni e sono il presidente della Proloco nei dischi e doline Valli del Nattisone che dal 2004 cerca di promuovere il territorio delle Valli del Nattisone nella sua complessità, nei suoi sette comuni e in qualche modo fa delle proposte di passeggiate sulle Valli del Nattisone riguardanti temi sicuramente importanti come la prima guerra mondiale, le chiesette votive, il confine della guerra fredda e altre. La nostra proposta quindi si caratterizza per una proposta prevalentemente turistica, di un turismo lento, attento al territorio, attento a questo territorio che vede la vicinanza di due grandi culture, la cultura latina e la cultura slava. E quindi questa è una proposta a 360 gradi. Chi viene a camminare con noi quindi tocca il territorio ricco di storia, qui si può parlare dei maggiori evenimenti del Novecento, viene accolto nelle strutture ricettive e soprattutto anche non può non mancare il contatto con la cucina locale e con la tradizione locale. Grazie per la visione! Grazie! 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 Grazie!